bravo ricco il 12 non abbiamo tutti questi numeri mi ha preso un altro ruolo hai entrato chica bravo mattia ma perchè? metti in mezzo metti in mezzo dai dai io non capisco perchè cacciavano mettiamo una volta la parte no beh c'è uno schema che se viene viene bene eh lo so nico nico uno dentro ma dai andiamo a saltare nico vai al limite nico stai la stai la no ma non è possibile no ma non è possibile questo mettiamo solo sul giornale no ma non è possibile bravo bravo salà 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 Grazie a tutti. Vai Davide, vai Davide, fatti vedere. Eh, se passa però. Bravo Giuse. Bravo Mattia. Ma è nostra, ma che fa? Bravo. 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 Guarda di qua il 7. Il 7. Guarda il 7. Guarda il 7. Guarda il 7. va andrà. Vai, vai, vai. Ti fa il 7. Ti fa perchè? Sono acquistati per fare... ... Ce l'aveva lui il pallone, era lui, lì non potevo chiamare con Polino, vieni tu. Sto dicendo che Salah è uno dei primi che tocca, ma stanno curando tutti adesso. Ti farei già di noi. Continuate, continuate. Ci toccano le 7 e l'11. Bravo, bene, scorrere, la pole è l'idea. Dai, vai. Dai ragazzi, però... Dai, dai, dai. Fuori. Vai, vai. Non dice 9, lui non dice 10. Vabbè, con lo squilongone dietro non lo toglie. Albitro. Uno, deux, tres, cuatro, cuatro. Eco. Allarga! Bella, occhio! Eh, sono partiti da poco, ma... Vai lì, Gianfri, vai lì! No, no, siamo un po' in ritardo, ma... Ok, ciao! Va bene, va bene! Dai, ragazzi! Vieni, ragazzi! No! Andra! Il 7, il 7! Il 7! Bella! Guarda il 7 che è solo! Cambia! Guarda! Eh, se passa! Eh, se passa! È fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Goal! Da lì non lo vedo! Da lì non lo vedo! Spazza! Va bene, dai, va bene! Il 7! Il 7! Il 7! Bravo, Raffa! Andate avanti! Bella! È tua, Elia! È tua, Elia! È tua, è tua! È tua, è tua! Grandelli! 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 No, ma perché no? Non ci... Bravo, Simo! Vai, Simo! Bravo! Vai, Simo! Bravo! Bravo! È un palo eh! Si è buttato, eh! Eh, si è buttato! Simulazione, simulazione! Ma dai, hai buttato per te! Lascia rapide! dove è la parte eccolo bravo vai avanti uomo vai avanti bella vai davide vai ancora davide sono stanchi ragazzi allora entro io che faccio c'è nessuno sono tutti loro come mai portateli dentro albidro albidro passa e tirava va bene va bene raga bravo l'anno scorso l'ultimo minuto col biannei ho fatto gol non capito come è una pirata questo albidro boh qualcuno di vale che butta 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 vai butta giù va bene dai ragazzi ragazzi bravo bravo raffa non ti porto pure la prossima volare non volare non ti porto pure la prossima volare sto vizio del mondo guardi prendi il 10 il 10 solo non si sono capiti ma non è fuori non è fuori mettiamo l'oro mettiamo l'oro vai vai un troppo solo mezzo ecco 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 non era fuori ecco 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 giusta, giusta, dai, dai, dai dai, 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 dai L'idea era buona, l'idea era buona. Questa è una fila di settore. A Milano. Guarda il 7, da solo il 7! Guarda il 7! Bella! Guarda il 7! Ehi, quanto? Bene a te? Tutto bene, tutto bene. Ciao Angelo. E' in campo, a fare un guarderino lì. Ciao Edo. Tutto bene? Ciao! 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 Che sono incognito, non vogliono farlo sapere. A chi hai visto? A te, con la macchina. E tu hai visto a te di squadra. Come è andata voi? Bene. L'avete vinto oggi? Contro chi? Sì. Sì. Uè Luca! Bene, buonaura. Buona, buona sera. C'è proprio l'impatriata. Ciao! Lei è un pazzesco. Scusate, ma anche un. e la e 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 non aspettare la palla non riesco a capire a posto di farsi strada così guarda il 7 da sempre da solo il primo tempo non abbiamo giocato male anzi bravo giuse vai giù vai giù vai giù così è che il gioco cazzo fuori come si chiama il 16 fate vedere fate vedere che è il 16 Karim Karim te ne vai guarda che c'è l'11 da notte vai qualcuno ok comunque è vero che uno sbaglia tutti possiamo sbagliare bravo Raffa bravo Raffa sembra che sono di più bravo Raffa bravo Cristian guarda che c'è l'11 da solo occhio a rimbalza bravo giuse bravo 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 noo Gianfra guarda che c'è l'11 da notte adesso ti dico Goma Tremus si è Tremus 4x18 Tremus per Goma ho 18x4 vedi quello da dietro come facciamo lo stanno piaccendo va bene dalla parte non va bene all'alto noo larga sinistra noo mandate giù bravo Gianlu bravo 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 oh ma di nuovo rimasta ancora la collega ah vai vai vai, d'vostate andate giù abbraccia di attraverso nostro che cazzo era nostro chiamatevele la palla no bravo lanza vedi quella è una bella anche se vedi quella è una bella anche se bravo vuole vale così bravo e si è l'ora non devo farla niente bravo bravo vicino giù bravo bravo salvo passo indietro salvo amicur mi sfingo qui tu ci sta in grado e si è poi c'è poteva capire e allora l'entra buon ne so Grazie